De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Dopo le 5 esche rinvenute da un passante a Rione Mazzini, sono state ritrovate altre polpette avvelenate. Questa volta i bocconi letali destinati ai cani del quartiere erano stati sistemati a via Basile, di nuovo a Rione dove ora è scattata la caccia al killer di Quattro Zampe, ma anche la paura che i cani possano essere attratti dalle esche. Le polpette tra l'altro è un indizio che rende l'episodio ancora più preoccupante. Sono state scoperte a pochi metri dalle giostrine frequentate dai bambini della zona. Sono cose squallide perché comunque l'animale va a soffrire e quindi non ritengo opportuno assolutamente per questa cosa perché sta continuando già la settimana scorsa e quindi continua in perterrita questa cosa e prendersela comunque con un animale secondo me è la cosa più brutta. Voi del quartiere non siete riusciti a identificare che è l'avvelenatore dei cani? No, assolutamente no. Non ne abbiamo proprio idea. Potrebbero essere persone del posto però di questo rione? Presumo di sì perché comunque è circoscritta la cosa, non è una cosa che si sta verificando in altri quartieri, quindi è circoscritta tra via Barre e via Prolungamento Rione Mazzini. Tra l'altro avete paura per Cagnolini? Lei ha uno splendido esemplare, quindi adesso cammina con più attenzione. Senza ombra di dubbio, quindi prima si potevano lasciare anche sciolti perché stavano... Essendo una zona che comunque è con un traffico non molto veloce quindi potevamo lasciarli comunque sciolti, ora non possiamo più farlo, quindi dobbiamo avere molta molta attenzione.